ma noi finiamo solo i grandi pescatori invece francesco lì sullo sfondo è un grosso pescatore più che grande ed ecco a noi una bellissima carpa a mosca pescata sempre al lago la finisce di appignano del tronto una carpa reggina assassino ecco che arriva l'infermiera avanti infermiera assista la malata l'infermiera non collabora l'infermiera non ha collaborato ma la mettiamo lo stesso su youtube e il grosso pescatore lì sullo sfondo sullo sfondo il professore ci faccia un commento il grosso pescatore non collabora e allora fermiamo qua fermiamo l'infermiera l'infermiera